Bello, è sempre emozionante vedere il Ponte Vecchio da qui, l'Arno e soprattutto le bellezze di Firenze, da Palazzo Vecchio a Santa Maria del Fiore, il Duomo di Firenze. Bene, amici, siamo venuti proprio qui nella terrazza più vista, più fotografata anche dai turisti di Firenze, ovvero il Piazzale Michelangelo. La vista, come potete vedere, è mozzafiato, ma noi siamo qui non per affacciarsi a Firenze, lo stiamo facendo in questo momento, ma per portarvi leggermente sotto al Piazzale Michelangelo, al di sotto della balaustra, perché dal 1954 avviene una magia nel mese di maggio. Nel 1954 fu organizzato una mostra internazionale di fiori, un concorso, ma ogni anno a maggio Firenze si colora di viola e non solo, perché fiorisce il giaggiolo. E allora, proprio sotto al Piazzale Michelangelo, andiamo a visitare insieme a voi il Giardino dell'Iris. Grazie a tutti. Ed eccoci dentro al Giardino dell'Iris. Per me è il giaggiolo l'Iris, perché a Firenze l'Iris è il giaggiolo. E ne parliamo proprio con la Vice Presidente della Società Italiana del Giardino dell'Iris, che ci spiega anche, come prima cosa, come mai a Firenze l'Iris è il giaggiolo. Allora, come mai? Perché l'Iris, originario della Valle dell'Arno, era un'iris bianca, un fiore bianco, che quando era in boccio, tutti questi bocci appuntiti dagli antichi fiorentini venivano paragonati a dei ghiaccioli. E dalla parola ghiacciolo poi è derivata la parola giaggiolo, con cui in tutta la Toscana, non solo a Firenze, viene chiamato l'Iris comunemente. Certo, noi però, così insomma, l'Iris a Firenze, lo diciamo non solo ai tifosi da Firenze, ma a tutti, è quello viola? Sì, è quello viola. Infatti diciamo che attualmente gli iris che si vedono più comunemente, spontanei, sono quelli viola. In giardino ne abbiamo tanti, ne abbiamo anche qualcuni, li vedo già da qui e dietro di noi. Però in realtà l'Iris è un fiore che può avere moltissimi colori. Infatti il nome Iris deriva dal fatto che Iris era la messaggera degli dèi nella mitologia greca. Gli antichi greci, quando vedevano l'arcobaleno in cielo, pensavano che fosse Iris con la sua sciarpa multicolore che passava. Questo è il motivo per cui questo fiore si chiama così, perché è un fiore che può avere tanti colori, non solo il viola, non solo il bianco. La particolarità del giardino dell'Iris è, prima cosa, che è aperto tutto l'anno, ma si può soltanto vedere l'Iris in fiore dalla fine di aprile alla fine di maggio e quindi tantissimi turisti vengono a vedere. E poi ci sono i vari percorsi, ma soprattutto ci si può anche perdere all'interno di questo giardino, che come abbiamo detto è proprio sotto al piazzale Michelangelo. Ci sono Iris di tutti i colori e soprattutto aveva anticipato il nostro avviso di telespettatori che nasce, c'è di mezzo, diciamo così, il grande sindaco di Firenze Piero Bargellini, ma soprattutto nel 1954 viene creato un concorso internazionale. Che cosa è successo da quel 1954 in poi? Allora, faccio una piccola premessa. Il concorso internazionale è una gara internazionale che premia i più belli ibridi di Iris. Cosa significa? Significa che in tutto il mondo ci sono delle persone appassionate di questo fiore che incrociano con tecniche assolutamente non invasive della pianta, incrociano le Iris le une con le altre per ottenere fiori sempre più belli. Quindi tutti i fiori che sono contenuti nel giardino sono creazioni, diciamo così, sono ibridi umani, cioè sono creazioni fatte da persone, ibridatori che in tutto il mondo, studiando il pedigree delle piante, perché ogni fiore del giardino, oltre ad avere un nome e un ibridatore che lo ha creato, ha anche un pedigree alle spalle, per cui questi incroci vengono fatti in maniera molto oculata. Bene. A Firenze negli anni 50 si è pensato di creare questo giardino dedicato al fiore della città, perché quello che tutti noi chiamiamo Giglio di Firenze in realtà è un Iris e non è un Giglio. Quindi il fiore simbolo della città ha meritato la creazione di questo giardino grazie all'interessamento dell'allora assessore ai giardini, Piero Bargellini, che ha fatto in modo che la nostra associazione, Società Italiana dell'Iris, avesse in concessione gratuita dal comune questo terreno. È stato creato il giardino, è stato indetto il primo concorso internazionale nel 1954. In realtà il primo premio del concorso è stato assegnato nel 1957, perché le piante arrivano in giardino nel 1954, ma vengono tenute per farle abituare a questo terreno tutte quante, pensate che sono piante che arrivano da tutto il mondo, quindi da ambienti anche molto diversi fra di loro, stanno tre anni e nel 1957 viene giudicato il primo concorso e così via. Noi in giardino abbiamo sempre anche i concorsi dei due anni successivi, perché le piante arrivano e non gareggiano alla prima primavera, ma alla terza primavera successiva. Quindi non è che andiamo a vedere quando arriviamo al giardino dell'Iris una gara, vediamo soltanto i fiori e ci appassioniamo perché hanno queste sfumature, questi colori. Se li state già vedendo anche a casa, vedete che sono diversi l'uno dall'altro, anche come posizioni all'ombra, danno delle sfumature particolari al sole, sono anche lucenti e soprattutto non potete sentire il profumo meraviglioso. Forse l'allora assessore, poi diventato sindaco, che ha pensato anche a quella che era la mostra dell'artigianato e tante idee per Firenze. Piero Vargellini forse amava davvero il suo giaggiolo, il suo Iris, che appunto è anche il simbolo di Firenze. In questo pezzetto di terra, che poi adesso ci spiegherà, non è così tanto piccolo, ci si può anche perdere perché si possono fare delle passeggiate in piena natura, veramente a un passo dal brusio di quello che è il piazzale Michelangelo. Intanto, in quanti ettari è? Sono circa tre ettari e mezzo. Era un vecchio podere, prima dei frati di San Miniato e poi appunto è diventato il comune, un'oliveta, lo vedete che è stato mantenuto con gli olivi e sono stati creati i camminamenti e ci sono le varie aiole con gli Iris. Quindi è piuttosto grande, è molto mosso, quindi percorsi anche molto diversificati fra di loro, c'è un laghetto nella parte pianeggiante in basso, è veramente molto bello, molto gradevole stare al giardino, un posto magico diciamo noi. E poi la particolarità è che chissà quante persone a casa ci stanno vedendo e hanno provato verso la metà degli anni 60 i primi filmini a colori, cioè le pellicole a colori oppure le prime fotografie stampate a colori e sono proprio venuti qui al giardino del Iris a maggio a provare le macchine fotografiche e i rullini. Avete mai pensato quanti giaggioli ci sono ritratti in pellicole o in fotografie in giro non solo per l'Italia ma anche per il mondo? Sì, ci abbiamo pensato, credo che il calcolo sia praticamente impossibile. È un fiore molto fotografato, ci sono tantissime persone che vengono al giardino a fare foto, paesaggistiche oppure sui singoli fiori e in tante occasioni abbiamo via via negli anni organizzato mostre fotografiche, mostre di pittura, tanti vengono a dipingere. È un giardino che al momento della fioritura si presta veramente a moltissime opzioni, diciamo così. E quando non c'è la fioritura, quindi praticamente da giugno a marzo il giardino è visitabile, che cosa si può vedere? Sicuramente un panorama mozzafiato e tanti olivi. Sì, allora in giugno si può vedere la fioritura di una particolare tipologia di iris, che sono le iris giapponesi o acquatiche, che sono al laghetto, che fioriscono più tardi. E poi il giardino innanzitutto è dal punto di vista paesaggistico veramente un gioiello, perché si incunea nel sistema del piazzale Michelangelo, le rampe, via dei bastioni, quindi è veramente una parte di tutto un percorso che porta anche al giardino delle rose, quindi è veramente incuneato in una fetta di città spettacolare. Un bellissimo panorama, abbiamo tante rose anche che ci furono donate nel momento in cui fu creato il giardino dalle rose barni di Pistoia, e quindi abbiamo la fioritura delle rose. E comunque il giardino viene aperto a chiunque lo chieda durante l'anno per qualsiasi desiderio naturalmente collegato all'attività che si può svolgere in giardino. Ogni pianta, ogni iris ha il suo cartellino, ma la particolarità è che questo iris è proprio all'interno del laghetto, quindi nell'acqua, perché appunto anche il laghetto è parte integrante, quasi a conclusione di questo percorso che il visitatore fa inebriato dai profumi e dai colori di questi fiori. Sì, il laghetto è un momento conclusivo e nel laghetto sono piantate delle iris che diciamo che i fiorentini conoscono meno, nel senso che non si tratta dei giaggioli, ma si tratta di iris cosiddette giapponesi che quindi devono stare nell'acqua. Fioriscono più tardi, sono quelle che fioriscono in giugno, a parte queste che vedete dietro di me, che sono invece iris che si trovano anche spesso nei fossi, nelle campagne normalmente, ma abbiamo una collezione di iris molto particolari che fioriscono a giugno. Il laghetto è sicuramente uno dei luoghi preferiti di questo giardino, è possibile veramente stare in grandissima pace qui, vengono molte famiglie, abbiamo alle volte organizzato dei corsi di yoga, dei spettacoli teatrali, concetti, perché è veramente un luogo che si presta moltissimo a tante cose diverse. E soprattutto c'è il silenzio, la pace e la quiete, perché pensate, a pochi passi c'è la strada, il viale dei Colli e appunto il brusio di piazza Michelangelo. Faccio una cosa che in televisione non si fa mai, sto tre secondi in silenzio per far ascoltare a casa veramente il silenzio di questo giardino. Ascoltate. Solo leggero chiacchiericcio di persone, una pace, una tranquillità. Le chiedo, ma si ricorda la prima volta che è entrata nel giardino dell'Iris, quale è stata l'emozione? Allora, me lo ricordo perché ero bambina, io faccio parte di questa associazione da quando facevo le scuole elementari e fu per me un'emozione bellissima perché veramente questa esplosione di colori, questa quantità di fiori diversi, mi colpirono veramente molto. In più, ora non abbiamo potuto sentirlo perché ci siamo noi, allora non si fanno sentire, ma nel laghetto ci sono le rane, quindi quando non c'è veramente nessuno, qui c'è un concerto meraviglioso di rane che sono degli animali deliziosi, veramente, delle piccole ranocchie che stanno nel nostro laghetto e quando è chiuso al pubblico, veramente il laghetto con il canto delle rane, spettacolare, veramente spettacolare. Ma parlando ancora di turismo, sono più i fiorentini o gli stranieri che si innamorano, si appassionano, tornano e ritornano al giardino dell'Iris? Allora, i fiorentini tornano, abbiamo persone che ormai conosciamo, che tutti gli anni vengono, li riconosciamo da un anno all'altro perché è un luogo molto amato, anche se non è conosciutissimo dai fiorentini. Gli stranieri abbiamo una doppia tipologia, abbiamo quelli che sono qui per caso al piazzale Michelangelo e quindi vedono il giardino, il cancello e scendono al giardino e poi abbiamo invece tantissimi appassionati di ibridazione, come vi dicevo prima, questa attività di incrocio fra i fiori e sono moltissimi gli stranieri e quindi abbiamo poi anche una fetta di visitatori specializzata, di specialisti che lo visitano proprio per vedere gli ibridi che noi custodiamo. Io ringrazio lei vicepresidente e ringrazio tutte le volontarie perché sottolineiamo sono volontarie che portano anche così in giro i vari turisti per far vedere le bellezze di Firenze e soprattutto l'angolo più profumato e colorato di Firenze, il giardino dell'Iris. Ci sono tante persone che ci seguono a casa da lontano, speriamo insomma con questa visita di aver fatto emozionare, fatto vedere Firenze, fatto vedere i fiori ai nostri telespettatori che ci seguono a più lontano e vorrei aggiungere che se avete voglia visitate il nostro sito societaitalianairis.com, tutto attaccato senza accenti e così potete vedere le foto del giardino, le foto di tutti i fiori premiati e rimanere aggiornati con tutte le attività e le iniziative che facciamo al giardino. Grazie a tutti! Grazie a tutti!